il ragazzi chi parte di due? chi parte schietto? ma stai un vinto eh su 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 sulla mano su la mano oh su 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 nexo schietto nexo schietto e come va? 3 2 1 ECCO! sei un brutto ritardato te lo spiego sul tracciato sei un garboy ma non mei patrificato ti mando a casa a dire che sei il più sopravvalutato magari se la fai da tempo testa di cazzo ti sto anche rispettando ma rispetto così poco quelli del dojo che salgo sul tatami con le scarpe con il fango brutto cazzo alla fine questo qua mi fa una sega insulta il dojo al contesto il dojo raga lexone è uno stratega sono un'altra tega perché non lezzo il culo cico nemmeno se il giudice fosse mio amico ma non è che se ci stai se non mi fai da un po' mi faccio partire dagli amici di burrito oh dagli amici di burrito quando arrivo stai zitta brutta stronza che c'hai l'occhio così tanto squercio che l'incrocio degli sguardi nostri è una rotonda forse è vero perché sai che tu sei proprio un fesso mentre questo credi di essere complesso e di battere l'exo è vero che c'ho l'occhio un wercio ma tu non c'hai il peso di guardare dentro te stesso tu dentro te stesso coglione dovresti dare più peso alle parole quando arrivo io sono più vecchio la sera sto in santa giulia tu invece fai il discordino a quale santa giulia perché gli axon fatti sbacche tra le chiappe perché lui è un vero rapper io lo faccio volare come caselle ma non meno casella le giuste barre le giuste barre mambo vuoi più ammazzo ti faccio esplodere la casella fra i l'ac4 cazzo me ne frega tutta piace battaglia navale non mi hai battuto ti metti remi in barca ti metti remi in barca invece tu prova di rimare in doppia h con rap questo che non ha qualità ha con doppia h quando lo sento ha ha divertente il socio è divergente cazzo me ne frega con le rime perde fa ben cussi con quei rappa e non dice niente non dico niente ma veramente schietto te lo dico scettamente non mi mischio con certa gente che non rappa veramente che non riesce a portare il pisto indegnamente dico indegnamente ma la fine capisci che spesso cazzo mi frega la fine capisci che dopo ieri conti fosse per il sample non sono a fare raga ma questo è uno scherzo sembra uno scherzo soprattutto se lo fai contro l'abbrutto e non ti hanno insegnato che dopo gli spaventati con i fatti iniziano a mettere il turbo si era aspetto il microfono mi è piaciuta questa patto la dimostrazione che anche i nuovi ragazzi i nuovi usciti i due ragazzi che fanno frista da un sacco di anni da quello che so ma sono usciti ultimamente le post pandemia possono garantire uno show è stata questa allora sarà un doppio argomento ovviamente la Giulia dovrà tenere conto di questa cosa chi li usa tutti e due avrà più punti il primo argomento sono le elezioni e il secondo sono i cartoni animati infatti ci sogniamo bella raga siamo usciti dalle passe forte coraggio ok 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 cartoni animati e elezioni ma dai sappiamo che lui è un pezzo di merda e in un secondo poi risolvo la faccenda corrotta voletta alle elezioni è così fascista che vota è dead a destra è dead a destra è normale che stoni ho stili strani mi sa che tu voti a destra nei cartoni tu cerchi meloni di nami meloni di rami il fatto è che questo si fa di droga infatti fa una merda diciamo che il mio cartone fa dei pokemon e voto liberale perché voglio fumare erba e se io voglio fumare tipo l'erba ma alla fine aspetta fra che dopo ti logoro tu mi parli dei cartoni fra come i one piece e i sloppy potere al popolo non hai capito però lo sai che poi ti voto certo che fratello io poi voto questo strozzo non dico che il pro c'ho fra quello del dojo io voto europa più lui vota africa il doppio africa il doppio è normale che alla fine se rappo io te le do c'ho la squadra zeta e con quella ti trapano difatti votasi per dire no ammagnate merda l'hanno già fatta contro l'exon e tu sei un vero festo per farti votare alle elezioni ai comizi dici cose più scontate delle puntate di cartoon network ti sei vizio è normale che comincio è come demon slayer tizio votatemi a basso nelel usando la spada di zenissu yeah yeah alla nintendo chi c'era ancora o forse siamo vecchi e dei vecchi a storia ma lui vuole essere votato per il vestitino sulla sfilata di moda una sfilata di moda male prende capisci che ti fa se rappo io sono un inverter non solo le superchicche brutta merda tu voti destra io rappresento le superchicche complimenti con la rima peccato che non hai ringgirato nessuna quartina il giorno in cui io voterò destra siamo il strangerfica insieme a chiratina ninja insieme a chiratina brutto scempio è normale che ti batterò da adesso arrivo sopra il gruco scappi come scubi tu ti tolgo la maschera e sei al centro sono al centro però prende l'attenzione mentre questo quel coglione non fa rap 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 mentre queste occhi scaravaggi infatti mi dispiace ma ti schiaccio con la scarpa qua con la scarpa qua e la politica se rappi dimmi dove l'hai messa brava è normale che alla fine brutto stronzo ti voto per non votarti scubi tu con il disconto ooooooooh è normale è normale